Avete visto vero? Beh siamo tornati Allora vediamo qui la mia fortuna anche sappiamo già che non è tanto Il bello è che per un attimo ci ho anche creduto Vabbè qui dove eravamo rimasti Allora divertiamoci un attimo così 10 20 minuti Easy peasy Allora intanto che aspettiamo Direi di fare tutte queste cose qua direi di fare Quindi inviamo regali Nessuno vuole essere, nessuno vuole, no alleluia Perfetto siamo tornati Vinciamo l'incontro mondiale Vediamo che c'è qui Dio, quale è successo? Combattiamo Christopher Nolan dai Perfetto Questo è Colossus Buffalo Orione Sicuro Lui che parte Orione Colossus E' proprio poteva avere E' un'altra cosa E' un'altra cosa Lui che picchia Buffalo L'insieme a due consiglia Più che lo manda solo il vinco Insieme a Gardner Mi immaginavo che avesse così Ehi, vabbè Andiamo a uccidere lui E' fuori uno Ma muore il zon Mi si puro Io non ci voglio credere Mentre c'è tanto podo Ah, sono un zon Vabbè Ora freezer Fa figo Guarda come fa figo Come fa La riappe Di quel che deve Alla faccia Dio Beh Facciamo vedere cosa è vero Quello Strono Si credeva figo Si credeva Adesso uccidiamo Ender Che non dovrebbe essere Diffico Di quanto è besta Signore Non puoi vincere Sarò Alla fine di tutti Chi vince Ti piaceva Ti piaceva Ti piacerebbe Tiè Non ho notato che tutti quanti Utano sempre O Ender O Colossus Che dico Come potete Che dico come potete Possono semplicemente Tutti quanti loro Devi imparare la dizione Perfetto Come 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 E adesso rifacciamo così Cinque Sei Sette Otto Posiamo Tra l'altro Anche Comoda Vincitiamo i vali Deci Creatore Un craic Unhen Un 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 Usiamo anche Drunumir Così facciamo un altro attacco a colpo Ammettiamo la bruciata così non perdiamo a te Fatte figa la musica Adio Van Helsing Neanche Avete visto c'è per battere il boss non ci vuole tanto Uno che divisi attacca e uno che guarisce Batti tutti i boss Soprattutto quelli lenti ovviamente No No Prima aveva Prima aveva Allora Qui diciamo ancora Qui diciamo un certo attacco in coma Giustamente Prima aveva Prima non è giusto Prima aveva Rione E' per questo ancora così sicuro Che male Io non so Drei agli altri penosi Nel senso che non mi servono a niente Ma cambiano pure le unici tessuti che hanno Cosa Però Vi rendete conto? Eh ma sta battaglia è terza E' terza sistema di taglio di quelle palle Vabbè Vabbè perdiamo così almeno per l'esperienza Tutti questi qua che ho Non è buono uno Credete Non è buono uno E poi ci credo che non riesco ad andare avanti Se c'è andare avanti Si è fredderati i idioti Avete visto gli altri Quella dell'altri Che fa 126.000 Non avevo giunto Chi o no che apriore aveva Rione È un progetto E' una spettro Ancora peggio Contemino Senti bene azione Non ci vediamo che c'è qualcosa di più forte. ritorniamo qua ma quindi c'è un tanti cyber e allora questo livello qua non può essere vinto credetemi guardatelo bene guardate prima fila seconda fila 680 46 mila sto qui fa 31 mila sto qua fa 33 mila sto qui fa 11 mila sto qui non ho mai visto amato con un colpo sto che fate da 5 mila costro 13 mila sono imbattibili sti sei neanche sti tre cosa non ci posso creare c'è uno dei tag team veramente per noi deve l'unico intelligente tutti gli altri devo e giusetto sto qua è una scema il gioco è stato migliorato sbriccati sbrigati scusate clicca sul cap per passare la nuova versione e va bene ecco le ho già battute altre volte sta qui l'ultima volta e faccio la daily challenge quello che qui mi sa che la finisco qua fate la daily challenge e basta non so se lo immaginavate ma non è caduto niente cioè non ho visto niente di diverso non ho visto chissà cosa hanno migliorato e poi ci vado adesso io su facebook e comunque penso che questo sia l'ultima volta e adesso mostreremo come non siamo tecnologicamente avanzati per lo spazio non lo siamo cacciato ercola ercola ancora ercola due abbastanza ed ecco un po' è finito un po' è finito e finisce qua la nostra avventura ciao alla prossima che come avete visto la medla per me sarà fra due giorni ciao